Una rotatoria da rifare lo chiedono gli autotrasportatori alla Progetto Carrara e al Comune. Si tratta della rotatoria in realizzazione sulla Statale Aurelia all'altezza dell'uscita dell'ultima galleria della Strada dei Marmi. Secondo i rappresentanti dei camionisti, infatti l'entrata nell'incrocio in direzione Massa-Sarzana avrebbe un'angolatura troppo acuta per consentire un'agevole manovra di svolta, soprattutto per chi deve guidare un mezzo pesante, con il rischio di creare ingorghi e quindi problemi di sicurezza anche all'interno della galleria e pensare che il progetto originario, adesso modificato in peggio, fu ben accolto dalle associazioni di categoria. I problemi sono due. Uno è un problema che si avvicina troppo all'uscita della Strada dei Marmi e la preoccupazione dei trasportatori è che se si formano delle code qualcuno rimane in galleria. che diventano anche dei problemi di sicurezza. Il secondo problema è che non si capisce perché il progetto della Rotonda era molto più a vale, distribuiva meglio il traffico e ci ha risposto il progetto Carara quando siamo accorti delle vie di entrata alla Rotonda, gli abbiamo chiesto come mai il progetto fosse cambiato, ci hanno risposto che è stata una scelta politica. Avete chiesto ulteriori spiegazioni? Ma l'abbiamo chiesto e però non c'è stata data la risposta da che parte è venuta. Lì ci sono quattro amministrazioni, l'amministrazione di Carara che sicuramente non ha inciso perché aveva il progetto della Strada dei Marmi, c'è il Comune di Massa, c'è la provincia e c'è l'ANAS. Non si capisce il perché si è voluto fare da una porta che garantiva sicurezza sia al mondo dell'autotrasporto su una infrastruttura così importante e l'Aurelia stessa e via Marchetti rifare una rotonda che può provocare anche alcuni disagi perché sicuramente sull'entrata Massa-Sarzana ci sarà la formazione di code soprattutto se ci sono dei veicoli pesanti che transitano in quel senso.